Bene amici, finalmente ho il tempo di dedicarmi un pochino alla cantinetta e caso vuole che proprio ieri sera è stato annunciato da Apple iOS 12 avete visto qua la versione della prima beta finalmente dopo una versione 11 un pochino buggata diciamolo perché sono arrivati un sacco di aggiornamenti sulla 11 insomma qualche problemino anch'io col mio iPhone 10 qualche rallentamento, qualche blocco una versione che promette una velocità superiore alla 11 50% per far apparire la tastiera vediamo se è vero, clicco lì, si è scomparsa subito e poi un 70% a far apparire la camera quindi molto meglio nel punto e scatta almeno così dicono ma le novità sono anche altre partiamo dalle più frivole diciamo così andiamo qua nei messaggi vi faccio vedere come qua per esempio ne ho fatta una sia possibile andare a creare delle nuove memoji cosa sono le memoji? ve lo faccio vedere subito qua possiamo schiacciare più e creare in base al colore della pelle ai puntini in faccia, le felidi possiamo decidere lo stile dei capelli lo stile del viso diciamo così insomma possiamo andare a settare un sacco di parametri per fare delle faccine attenzione non somiglianti a noi ma somiglianti a chi vogliamo perché non c'è come sui Samsung la scansione del volto per poi creare una animoji mi pare che le chiami Samsung qua sono proprio faccine che possiamo creare come vogliamo e tra l'altro è migliorato lo vedete il motore di rendering molte più, lo giro verso di me molte più espressioni del volto anche la lingua insomma da questo punto di vista un miglioramento generale questo dovrei essere io l'ho registrata ieri e tra l'altro anche un paio di animoji di emoji nuove con il dinosauro il fantasmino la tigre insomma qualcosa di nuovo da questo punto di vista un po' diciamo che non sono novità sostanziali andiamo alle novità che mi sono piaciute di più chiamata FaceTime di gruppo fino a 32 persone se non sbaglio e poi un paio di applicazioni nuove la prima è per la misurazione sfrutta il motore di realtà aumentata a arche è stato implementato questa è molto comoda perché guardate io posso cliccare lì su un puntino per esempio voglio vedere quanto è largo questo supporto faccio così voglio vedere quanto è alto faccio così poi vado là la cosa bella è che quando lui sente che c'è uno spigolo un angolo o qualcosa ci dà un piccolo feedback di vibrazione per farci prendere il puntino giusto sapete io cosa lo userò a fare a misurare i pacchi per non pagare di più o di meno quando spedisco le mie cose col corriere scherzi a parte un'applicazione simpatica carina e anche molto utile mi sembra che non si possano registrare le aree però si può fare uno screenshot delle misure ma è una cosa siamo nella beta 1 che magari potrà essere implementata e poi la livella con questo stile grafico altra novità applicazione libri che è migliorata più facile trovare i propri libri qua si va alla libreria e poi le notifiche raggruppate questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo dove esserci fin dalla prima release finalmente non 100.000 notifiche ma guardate qua per esempio ne ho più di una vengono raggruppate così se clicco vengono espanse e poi ovviamente possiamo sempre decidere di cancellarne cancellarne una o cancellare tutte andando a tenere premuto con il force touch multitasking guardate finalmente non bisogna più tenere schiacciato per far apparire la X per chiudere le applicazioni ma basta fare vedete swipe su e poi tenere premuto e fare così e si cancellano tutte molto più veloce rispetto a prima e poi una funzionalità che mi è piaciuta tanto soprattutto se avete se voi siete o avete dei figli che stanno troppo al telefono ecco qua potrete monitorare perché guardate qua abbiamo delle statistiche veramente molto 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 approfondite di quanto stiamo al telefono lo schermo per ogni applicazione vedete qua sotto applicazione per applicazione e poi non solo perché possiamo mettere dei limiti di utilizzo per ogni per ogni app metto il mio pin ok aggiungi limite di utilizzo vedete si può aggiungere qualsiasi applicazione e dire non so questa applicazione tu la puoi usare solamente per dieci minuti e farlo dopo dieci minuti l'applicazione si chiuderà automaticamente quindi una cosa che devo dire mi è piaciuta particolarmente e poi possibilità di mettere alcune applicazioni sempre consentite e downtime vuol dire che si può andare a schedulare un periodo in cui il telefono sia con il display spento insomma per chi sta troppo al telefono è una cosa che non è poi così stupida ultima cosa che volevo farvi vedere tra le macro tra le macro modifiche siri ha la possibilità ora di fare dei shortcut cioè delle delle scorciatoie guardate qua vedete qua ci sono delle scorciatoie diciamo suggerite io ho messo come comando rapido messaggio rapido dicendo messaggio rapido lui automaticamente manda un messaggio a chiara vi faccio vedere subito come funziona messaggio rapido come vedete fa la sua routine mi apre messaggi e io sono pronto a scrivere un messaggio a chiara molto più veloce speriamo che questa velocità sia portata anche magari sugli iphone vecchi di vecchia generazione magari sul 6 6s questo però io purtroppo non avendo un iphone di quella generazione non posso dirlo però le prime impressioni sono buone scattante veloce e reattivo vediamo vedremo nel corso del tempo con la cantinetta andiamo poi con ordine note 8 cosa è successo niente sono arrivate le patch di sicurezza maggio 2018 c'è da dire una cosa che la batteria del note 8 mi dà un po' di preoccupazioni perché sale scende sale scende come autonomia non è mai stato un mostro di autonomia ma in base alle patch che arrivano per esempio con maggio è un po' peggiorato ad aprile era un pochino migliorato boh non lo so arrivate le patch anche a maggio di maggio 2018 su S9 Plus con sempre la Samsung Experience 9 Android 8 anche il note Android 8 non ancora 8.1 e poi novità finalmente su G6 arriva Oreo guardate patch non ce la fanno a mettere le ultime vabbè di aprile cambia veramente poco non mi ricordo una cosa se il G6 senza con il vecchio software avesse il riconoscimento del volto vabbè non mi ricordo qua comunque c'è migliorata l'autonomia leggermente per il resto vi faccio vedere le varie schermate delle impostazioni non è cambiato tanto perché il software poi che va a coprire Oreo è sempre lo stesso ovvio che ci sono tutte le funzionalità di Oreo quindi le notifiche un pochino più diciamo approfondite il picture in picture quando usiamo alcune applicazioni soprattutto Maps che va in finestrella quando lo mettiamo in background cose comode è arrivato nessun aggiornamento per il V30 per quanto riguarda il 5T allora è uscito anche qua l'aggiornamento va praticamente di pari passo con il 6 vedete le patch di maggio del 2018 in realtà l'oxygen è un pochino più indietro perché quella 5.1.2 sul mio 6 è arrivata la 5.1.5 ci sono ovviamente le gesture molto comode è sempre molto veloce e reattivo tante persone mi chiedono ma passare dal 5T al 6 ha senso no ve lo dico subito ragazzi il 5T rimane veloce fluido reattivo molto molto valido l'unica cosa che migliora tanto probabilmente è la fotocamera quindi se puntate a quello cambiate se no ottenete il 5T che va benissimo il mio 5T niente lo metterò in venta perché qua al posto suo ci metterò il 6 Avengers Edition seguitemi sapete che l'ho comprato perché ero scimmiato Honor 9 Honor 9 è arrivato un aggiornamento cosa introduce lo sblocco con il riconoscimento del volto avete visto abbastanza veloce anche se sinceramente sui telefoni con il sensore di impronta digitale davanti il riconoscimento del viso lo trovo meno utile rispetto a quelli che non lo hanno che non hanno l'impronta digitale davanti però c'è è arrivato quindi giusto segnalarlo cancelliamo tutto andiamo qua nelle impostazioni perché vi faccio vedere anche le altre informazioni perché sono arrivate oltre allo sblocco col volto le patch di aprile vedete primo aprile 2018 Pixel 2 è arrivata la developer preview beta 2 l'aggiornerò appena esce la release candidate quindi la release poi che arriverà sui Pixel 2 ufficiali e poi il Mi 6 il Mi 6 guarda sto accendo cosa succede tac sì sono in recovery perché sto per installare la MIUI 10 perché non so se questa settimana già spero ma probabilmente settimana prossima mi arriverà il il Mi 8 e quindi faremo una comparativa tra la MIUI 9 e la MIUI 10 vediamo cosa cambia cosa non cambia poi anche lui lo vendrò perché terrò il il Mi 8 dovrebbe arrivarmi anche l'SE però quello tra qualche giorno Xperia Xperia XZ1 non è cambiato nulla se non il fatto che aggiornamenti costanti sempre prima di essere aggiornato vedete patch al maggio 2018 ma Android è ancora in versione 8.0 esperienza d'uso non è cambiato assolutamente nulla riconoscimento del volto e sblocco anche per il P20 Pro anche qua non è cambiato nulla però è arrivato un aggiornamento ad aprile 2018 quando dicono non è cambiato nulla non è cambiato nulla a livello di usabilità a livello di user experience e a livello proprio di uso quotidiano e poi anche il P20 Pro anche qua non è cambiato nulla mi faccio riconoscere il viso ma anche qua è arrivato un aggiornamento patch di sicurezza ad aprile del 2018 purtroppo e qua c'è un purtroppo grande così perché a me gli HTC tendenzialmente piacciono ero un amante degli HTC in passato ma avevano detto che abbandonavano un po' la Sense per mettere un pochino più Android Stock per mantenere aggiornati i telefoni in realtà HTC U11 è uscito l'anno scorso U12 Plus è di adesso e guardate patch di sicurezza ancora novembre 2017 Android 8 mi sembra che non c'erano neanche le patch che andavano a mettere una pezza su quel bug di dicembre insomma non si fa non si fa così quindi non è arrivato nulla forse metterò l'U12 Plus quando all'ufficio stampa rientrerà uno degli unici due sample che hanno in Italia e poi il Honor View 10 andiamo a vedere cosa è successo log anche qua patch arrivate aprile 2018 quando è arrivato l'aggiornamento il log era vuoto anche qua è sempre Motion UI 8.0 Android 8.0 lui però lascerà spazio a Honor 10 che ha venduto di più e comunque a me piace di più ha più senso secondo me da tenere in cantinetta non ritengo tutti due sennò ci sarebbero veramente troppi Honor ma adesso piccolo taglio perché passiamo alla fila di sotto e partiamo dal Mia 1 con il suo Android One si è aggiornato non è ancora arrivato Android 8.1 ma le patch sono a maggio del 2018 nell'attesa spasmodica del Mia 2 e poi il Redmi 5 Plus io ho la vedete globale stabile è arrivato un aggiornamento non è ancora arrivato Oreo perché è alla 7.1 o 2 forse ha più senso mettere il Redmi Note 5 che ha già Oreo boh non lo so fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate e poi e poi Huawei P10 Lite è arrivato un aggiornamento qua ve lo dico 2,37 GB meno male che ho la fibra enorme poi cosa è cambiato nell'utilizzo assolutamente assolutamente niente almeno così apparentemente in realtà vista la dimensione in teoria dovrebbe essere cambiato tutto però il log non diceva niente è rimasto sempre Android 7.0 ma le patch sono aggiornate a maggio del 2018 con la Motion UI 5.1 Oreo qua sicuramente non lo vedremo mai grande delusione Meizu M6 Note abbandonato peccato ci avevano fatto credere che Meizu sarebbe cambiata in realtà non è cambiato un bel niente sempre la Flyme 6.1.4 andiamo a vedere su che versione è basata 7.1.2 con le patch ancora a novembre 2017 peccato e poi attenzione Honor 9 Lite ha avuto paura della cantinetta perché stavo dicendo che le patch erano aggiornate solamente fino a marzo lo appoggio e proprio adesso è arrivato un aggiornamento incredibile aggiornamento delle patch di sicurezza vedete ad aprile 2018 e allora lo mettiamo lì lo facciamo aggiornare sempre uno dei miei telefoni preferiti per rapporto qualità prezzo e design mi piace proprio proprio tanto come prestazione lo sapete va come tutti Huawei Honor di quella fascia però attenzione grande novità oreo su S7 vedete Android 8 Samsung Experience 9 che cosa cambia beh cambia praticamente tutto perché diventa molto molto più simile agli ultimi Samsung che abbiamo avuto modo di provare se vogliamo possiamo avere vedete tutte le applicazioni sulle varie schermate se vogliamo comunque possiamo fare swipe up per aprire il drawer Samsung Pay che viene abilitato però attenzione perché non c'è Bixby infatti se facciamo uno swipe a destra rimane la vecchia schermata di update questo probabilmente per non andare a come si può dire togliere quelle abitudini di chi è già abituato a usare update e non è abituato a usare Bixby e probabilmente questa è la scelta che Samsung ha fatto e ha fatto anche su A5 perché attenzione anche su A5 è arrivato Oreo vedete anche qua stessa versione 8 con l'Experience Samsung 9 con le PC sicurezza a maggio del 2018 qua stesso ragionamento c'è sempre vedete Samsung Pay a destra c'è sempre la schermata update vedete devo dire che l'ho provato l'ho riprovato qua ho tenuto la schermata con tutte le applicazioni e non tutte le applicazioni sulle varie sulle varie schermate home a differenza dell'S7 proprio per farvi vedere cosa cambia swipe giù per aprire le impostazioni dura un pochino di più la batteria rispetto a Android 7 anche su S7 e ho fatto una comparativa A5 A6 A8 che uscirà tra pochissimi giorni per farvi capire qual è il migliore da comprare in questo momento e poi A8 idem come sopra no idem come sopra no perché Experience 8.5 Android 7.1.1 purtroppo qua si abbiamo Bixby ma non abbiamo ancora l'ultima versione di Android che probabilmente arriverà però a breve perché Samsung la promessa probabilmente è in rollout perché dopo A5 A7 era previsto proprio la 8 e poi General Mobile 6 mi stupisce sempre di più guardate versione Android 8.1 con le patch di maggio del 2018 la fluidità che non è di un telefono da 99 euro gli aggiornamenti non sono quelli di un telefono da 99 euro e si perché è in promozione cercate il coupon sul canale telegram offerte.tech l'ho pubblicato qualche tempo fa quando ero andato con la Urus Lamborghini a fare questa diciamo questa cosa strana un telefono da 99 euro con una Lamborghini da 200.000 euro e ho fatto il video e mi era ripiaciuto l'unico limite era dato dalla batteria ma per 99 euro era veramente un telefono interessante batteria che però era sostituibile tra l'altro ripeto aggiornatissimo e mi è arrivato da provare il General Mobile 8 vediamo se si comporterà altrettanto bene e poi e poi BQ Aquaris Pro anche qua sembrava abbandonato in realtà sono arrivato il patch di aprile con Oreo 8.1 non hanno migliorato la vibrazione che è sempre zanzarosa ma l'interfaccia è praticamente stock è anche abbastanza fluido reattivo e veloce e poi mi è piaciuto il fatto che lo abbiano aggiornato tra l'altro attenzione perché a giorni arrivano i nuovi i nuovi BQ Aquaris e poi andiamo a parlare di Motorola con il Moto G5 Plus che andiamo a vedere accessibilità no ho sbagliato menù cosa è successo andiamo indietro avevo le gesture sul tasto patch di aprile 2017 ma ancora Android in versione 7 non penso arriverà Oreo su questo che era un mio ex Best Buy lui e lui lasceranno il posto ad altri telefoni che poi vi racconterò lui è il Moto Z Play anche lui è rimasto 7.1.1.1 e patch di febbraio 2018 probabilmente Motorola ha abbandonato gli aggiornamenti di questo Moto Z Play anche perché tra pochissimo mi sembra il 14 di giugno arriverà il nuovo Moto Z 3 Play quindi state lì e continuate a seguirmi comunque questi due telefoni usciranno per far posto ai miei nuovi Best Buy che sono G6 Plus e il Moto X4 ma poi ve li faccio vedere BlackBerry l'ultimo là nell'angolino ma non è in castigo anche se avrei preferito arrivare a Oreo vedete non è ancora arrivato siamo ancora sulla 7.1.1 però patch di sicurezza maggio 2018 questo è importante per chi utilizza questo telefono che è un telefono diciamolo un po' business con la tastiera un po' retro ma poi continua a piacere quando lo prendo in mano e spippo la tastiera è sempre una goduria però mi fa piacere che le patch di sicurezza che poi sono quelle importanti per chi lavora e per chi usa il telefono magari con anche dati sensibili importante che vengano aggiornate certo che Oreo mi avrebbe fatto più piacere soprattutto per quel picture in picture quelle notifiche sono veramente migliorate nella versione 8 rispetto alla 7 e anche la batteria che su quasi tutti i telefoni che ho provato con Oreo va a migliorare un pochino ma adesso le novità della diciamo della cantinetta prossima ventura a parte il fatto che devo sistemare questa mensola è un gran casino farò posto qua probabilmente per il mio pc non lo so vediamo come sistemare lo studio finalmente ho qualche giorno libero Honor 10 ve l'ho già detto LG G7 Think You sto provando la versione italiana tra l'altro oggi pomeriggio 18.30 sarò a Perugia proprio per farvelo smanettare guardate sul su Facebook o sul blog il calendario eccolo qua il G6 Plus che andrà là al posto del G5 Plus eccolo qua il Moto X4 ho fatto anche un confronto che uscirà nei prossimi giorni Moto X4 G6 G6 Plus perché vanno tutti bene i Motorola non so perché gli ingegneri Motorola sono veramente bravi a programmare ma c'è chi va meglio chi va peggio e poi quello che vi ho prima il mio Avengers Edition di OnePlus e tutti i telefoni che escono dalla cantinetta me lo chiedete in tantissimi ovviamente li vendo perché l'80% dei telefoni che vedete in cantinetta li ho comprati alcuni me li lasciano le case e quelli che posso vendere li troverete su mercatino punto tech e trovate anche il link dal blog in alto a destra o sinistra mi pare a destra ciao ciao